Kate, la duchessa di Cambridge, ha agito come pacificatrice reale in vista della riunione del principe William e del principe Harry giovedì. La duchessa di Cambridge nelle ultime settimane si è messa in contatto con sua cognata Meghan Markle, nel tentativo di sanare la frattura tra la coppia del Sussex e la famiglia reale. Il principe William si riunirà con suo fratello il principe Harry più tardi oggi per l'inaugurazione di una statua in memoria della madre. Una fonte ha detto a Us Weekly. Kate ha contattato Meghan molto di più da quando è nata Lilibet, invia messaggi e regali e cerca di costruire una relazione. Lo studio ha chiesto allo staff di contattare di più Harry e Meghan per farli ammorbidire un po'. Le relazioni tra il duca e la duchessa di Cambridge e Harry e Meghan sono state tese da quando la coppia ha annunciato che avrebbero fatto un passo indietro come membri anziani della famiglia reale. La coppia in seguito si è trasferita in California e ha parlato apertamente del loro tempo come reali di lavoro. Durante un'intervista rivelatrice con Oprah a marzo, la coppia ha criticato sia i membri della famiglia reale che l'istituzione nel suo insieme. Punto. Il principe Harry ha caratterizzato la sua relazione con il principe William come spazio e ha detto che erano supercorsi molto diversi. Meghan Markle ha anche parlato del suo complicato rapporto con la cognata, accusando la stampa britannica di aumentare le tensioni. disse, se mi ami, non devi odiarla. E se la ami, non devi odiare me. Ha anche corretto la storia che aveva fatto piangere Kate in vista del matrimonio reale nel 2018. Mentre era stato ampiamente riportato che Meghan aveva sconvolto Kate in un litigio su un vestito da damigella per la principessa Charlotte, Meghan ha detto a Oprah che era successo il contrario. Meghan in seguito ha detto che Kate la possedeva e si è scusata con lei, portando le fiori e un biglietto. Altre rivelazioni nell'intervista includevano la salute mentale della coppia trascurata da Buckingham Palace e un membro anziano della famiglia reale che faceva un commento razzista sul colore della pelle del loro bambino non ancora nato.